e benvenuti ragazzi e benvenuti in questo video di Manfredo Manfredo e oggi parleremo della partita Juventus-Napoli finita 2 a 0 per la Juventus la Juventus che vince 2 a 0 con i gol di Ronaldo al 62esimo e gol di Morata al 95esimo rigore sbagliato di Insigne Cesni ha fatto dei miracoli in porta cioè bellissimi Napoli che gioca così così la Juve benissimo 2 a 0 e Napoli ha fatto pochissimi tiri Insigne che sbaglia il rigore per il Napoli la coppa va alla Juventus iniziamo con i voti della a Juventus Cesni 7 e mezzo quadriato 7 e mezzo Bonucci 6 e mezzo Chiellini 6 e mezzo Danilo 5 e mezzo Chiesa 5 Artur 7 Bentancur 7 McKennie 5 e mezzo Kulusevski 5 e mezzo Cristiano Ronaldo 7 i subentrati Morata 7 Rabiot e senza voto Bernardeschi 6 e mezzo e niente ora andiamo ai voti del Napoli Ospina 6 Di Lorenzo 5 e mezzo Manolos 5 Kulibari 6 Mario Rui 6 Demme 6 e mezzo Bagaglioco 5 e mezzo Lozano 6 e mezzo Ehm Geliuschi 5 e mezzo Gieliuschi 5 e mezzo Insigne 5 che sbaglia il rigore Petagna 5 i subentrati Mertens 6 e Politano 6 e Elmas 5 e mezzo senza voto e niente ehm Questi sono i miei voti do un 7 anzi un 8 a Pirlo ha messo un'ottima formazione e quindi un 8 e il mister del Napoli c'è dato un 6 e mezzo e niente ragazzi video finisce qui intorno a mano frima e credo e a Ciao